Voglio parlarti di tre abitudini che accomunano tutti gli studenti e le studentesse di successo. Ti invito ad integrare una o più di queste abitudini all'interno della tua routine e vedrai che i risultati arriveranno e talvolta non è fare di più, ma è fare di meno e farlo meglio. Un po' un trucco. Comunque, oggi parliamo ovviamente di questo in modo molto più stesso, ma prima di farlo voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Lo puoi richiedere in modo molto molto semplice, ti posso inserire solo il tuo nome e la tua mail. Nella tua mail riceverai tutti i contenuti del corso e per fare tutto questo ovviamente trovi il link qui sotto in descrizione. È gratuito, provalo, non hai nulla da perdere, sicuramente ti può essere utile e ti può aiutare. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi affrontiamo insieme queste tre abitudini che accomunano tutti gli studenti e le studentesse di successo. Quindi vediamo insieme queste tre abitudini da studente e studentessa di successo che dovresti assolutamente sviluppare. Oggi vediamo un video davvero semplice perché torniamo un po' alle basi di quali dovrebbero essere quei modi di studiare, inteso in senso ovviamente molto ampio, che poi a lungo termine fanno davvero la differenza e fanno sostanzialmente il tuo successo a livello accademico. Lo vediamo in termini di abitudini. Qual è la prima abitudine? Preferire delle tecniche semplici ed efficaci. Evitare quindi di complicarsi la vita in modo del tutto inutile. Sostanzialmente perché utilizzare tecniche complesse comporta anche molte più risorse, molto più tempo e come conseguenza maggiore stanchezza. E anche per esempio la minore capacità di mantenere un alto livello di concentrazione per molto tempo. Quindi per arrivare dal punto A al punto B, cioè dal non conoscere le informazioni al conoscerlo, devi sempre preferire la strada più rapida, più lineare, potremmo dire in un certo senso. Mentre, come vediamo nel caso di sotto, sì arriviamo sempre dal punto A al punto B, quindi magari riusciamo a studiare le informazioni, ma è così aggrovigliato il percorso, è così ricco di complessità che tanto vale scegliere delle tecniche più semplici che comunque ci fanno arrivare dove dobbiamo arrivare. Questa è un'abilità molto importante che fa risparmiare tantissimo tempo e moltissime risorse, soprattutto a livello mentale, in termini di tempistiche nello studio. La seconda abitudine è la seguente, preferire lo studio di qualità alla sola quantità di studio. In che senso? In modo molto molto lineare. Molto molto meglio. Dedicare un'intera giornata e alla fine avere studiato 10 pagine, ma fatte davvero bene, che avere come obiettivo quello di studiare 20 pagine, magari sì, arrivi a completarle tutte, ma le è studiate male. Questo ha un effetto che potremmo definire di compound, cioè si aggiunge di volta in volta, di giorno in giorno, la quantità di pagine studiate. Quindi magari sì, hai studiato al doppio della velocità, ma ricordi molto poche informazioni. Probabilmente hai studiato 20 pagine, ma ricordi le informazioni solo per 4-5, come si deve. Mentre se parti con l'obiettivo di studiarne 10 e farle tutte bene, le è studiate tutte bene. Quindi tutte 10 come si deve. Quindi vai a preferire sempre la qualità nello studio. Quindi in modo più ampio lo studio di qualità, in certo senso, ed evita di focalizzarti sul rincorrere un numero di pagine come quantità. Questo ovviamente sta alla base di una buona organizzazione del tempo, una buona pianificazione non solo degli esami, ma anche proprio dello studio come processo. E vediamo la terza e ultima abitudine, come ti dicevo sarà un video molto semplice, ma molto molto importante. La terza abitudine è questa. Tornare sulle stesse informazioni che hai studiato, non sempre con la stessa tecnica, quindi leggere 10 volte una pagina, ma con tecniche diverse. Quindi, per esempio, crei degli schemi a cascata, poi crei dei quesiti sul materiale per vederli in modo critico, e poi dedichi alla ripetizione orale. Ma questo è su cosa? Sempre sulle stesse informazioni da studiare. Quindi magari inizi creando uno schema a cascata con i concetti più importanti, crei dei quesiti che ti permettono di ragionare in termini, appunto come ti dicevo prima, critici sulle informazioni, senza prenderle per buone ed evitando uno studio nozionistico, e infine metti tutto alla prova con una ripetizione orale fatta come si deve. Le informazioni sono le stesse, perché comunque sono quelle che hai riportato nello schema a cascata, sono quelle sulle quali riporti i quesiti, sono le stesse che ripeti. Ma questo cambiare la tecnica ti permette di affrontarle in modo diverso e di stimolare anche la memorizzazione delle informazioni, che poi ti porta, quando ti serve, alla capacità di ricordarle come si deve. E poi, se ci fai caso, ogni volta che torni sulle informazioni con una tecnica diversa, sei in grado di cogliere altri aspetti che magari con una tecnica precedente non è stato altrettanto facile cogliere. Quindi queste sono le tre abitudini che ti volevo consigliare. Questo è quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Se hai altri dubbi o domande, non farti problemi a scrivere nella sezione dei commenti o nei contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo il video a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Ne approfitto per ringraziarti del tempo che mi hai dedicato e della tua attenzione e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.